Ho giusto da dire, gennaio, che stiamo qua sulla vici, gli amici, come si dice il mio amico, il mio amico Camminuzzo, che come fanno le altre persone Comunella, come fanno le altre persone Comunella, che avevo fatto anche lui Comunella. E guardate quante vici avevo portato. Ciao, ragazzi, non ti vedi mai il tuo video, non ti vedi mai il tuo video, no, infatti, a Roma andiamo, per forza, e la vive, non ce la manciamo, e la cattina una macchina, ci mettiamo, ciò, le cattine di lavori, è buono qui, è buono qui, è buono qui, alla salute di tutta, alla tante donne, nella vita di tutta, tantissime donne, ok, una mia madre, una mia madre, una mia madre, la donna, la donna, la donna, le nostre donne sono quelle, le nostre donne sono quelle, Comunque, uno, 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 va bene, vediamo qua, siamo molto vegetali, stiamo in un negozio di carne, e siamo vegetariani, guardiamo, un negozio, guardiamo con i spaghetti i spaghetti verdi al petto dai regia giro con i spaghetti che è un grande che è proprio un pizzaiuto ora ci metto bella Bruno dimmi qualcosa un po' qualcosa di serio la cosa più interessante che vuoi dire è grazie papà bella papà bella piccina ciao a tutti ciao e belle produzione